Salve amici del Centrometro Italiano. Dopo il passaggio di una piccola perturbazione che porterà ancora a piogge e neve soprattutto al nord Italia, l'anticiclone torna ad espandersi verso la nostra penisola. Venerdì 8 marzo si sentiranno gli ultimi effetti del transito di questo fronte, con locali precipitazioni specie al centro e al nord-est. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi già dalla notte con la prima parte del weekend che dovrebbe risultare generalmente asciutta, anche se con molte nubi sparse. Nonostante l'anticiclone torna a lambire l'Italia, però non si escludono locali piovigini specie sul Tirreno, con molte nubi anche basse soprattutto nella giornata di domenica. Per quello che riguarda le temperature, queste tenderanno a diminuire leggermente, ma rimarranno comunque oltre le medie del periodo. Per tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione del tempo vi invitiamo a seguire il nostro sito e il nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Medi Italiano.